L'FC Matese riparte dalla trasferta in Lazio. Domani la formazione di mister Corrado Urbano sarà ospite del Cinzia Alba Longa di Genzano di Roma e la gara tra queste due neopromosse sarà trasmessa in diretta nazionale su Sport Italia. Entrambe le compagini sono in cerca di riscatto in quanto reduci da un K.O. I padroni di casa fermi domenica scorsa a causa dell'impossibilità del Rieti, avversaria di giornata, di eseguire i test previsti dall'aggiornamento del protocollo, sono scesi in campo mercoledì per recuperare appunto il derby contro il Rieti, valido per il settimo turno. Una sconfitta inaspettata per il Cinzia Alba Longa che ha ceduto sul rettangolo dei Reatini per 3-2. C'è grande desiderio di rivalsa dunque per la squadra di mister Mauro Venturi che ha soli sei punti dalla vetta insieme a Vasto Girardi e Tolentino e con una partita in meno, quella contro la capolista del girone Campobasso. I laziali ci proveranno fin da subito contro l'FC Matese focalizzati ad intascare la vittoria, ma i campani renderanno difficile l'impresa perché anche loro sono alla ricerca di punti fondamentali dopo la sconfitta di misura contro il Castelnuovo Vomano. Nonostante l'1-2 finale, in quella sfida i biancoverdi hanno dato del filo da torcere agli avversari, dimostrando una buona qualità di gioco e questo non può che dare una spinta in più agli uomini di Piedimonte, chiamati a stringere i denti sin da domani per ridare slancio alla classifica e assicurarsi una tranquilla salvezza. Il probabile 11 titolare schierato da mister Urbano dovrebbe vedere ancora con la casacca numero uno Palombo, ma anche il portiere Kuzmanovic partirà dalla panchina avendo scontato i quattro turni di squalifica. In difesa Riccio, Setola, Albanese che ha risolto i problemi con la spalla e Cassese, il quale sembra essersi già integrato bene nel gruppo, al centro del campo Barone agira davanti alla difesa con Barbato, Masotta e Langellotti, attacco affidato ad Abreu e Galesio, quest'ultimo autore del gol sul rigore nell'ultimo match contro il Vomano. Si prevede una gara vincente, la terna arbitrale chiamata a dirigere i 90 minuti allo stadio Bruno Abbatini di Genzano sarà tutta siciliana, Riccardo Leotta di Acireale coadiuvato da Pietro Anile, anche lui della stessa provenienza, e dal Catanese, Dario Testai, Cinzia Albalonga e Matese regolarmente in campo alle 14.30.